Franz Peter Schubert ha un rapporto molto speciale con la forma sonata fin dalla sua immediata giovinezza dal 1815 cominciava a comporre movimenti e poi ad assemblare movimenti di sonata addirittura senza portarli al termine alcuni portandoli soltanto allo stato di abbozzo, di frammento oppure di movimenti separati collegati soltanto da un'idea di tonalità o di relazioni armoniche Tutto il percorso di Schubert è un percorso fatto come un viandante qual era appunto la sua estetica l'estetica del lead del Wanderer l'estetica di tutto ciò che va percorso sia da un punto di vista formale che da un punto di vista armonico Le tre sonate di questa produzione sono effettivamente tre momenti di questo percorso di questo viaggio che Schubert fa dai movimenti della sonata Deutsch 157 in Mi Maggiore con un secondo tempo che sicuramente mette a frutto l'esperienza quartettistica che Schubert aveva già cominciato a esplorare finendo con un movimento che non è effettivamente un finale ma sembra debba preludere a un rondò, a un allegro finale che invece rimane sospeso in questa forma di minuetto scherzo qual era appunto un movimento ibrido che era al terzo posto nella sequenza dei movimenti nella sonata classica viennese il percorso di Schubert viene poi evidenziato in quello che è l'opera 120 un'opera tarda da un punto di vista di pubblicazione ma antecedente a quella che è l'opera 53 che è la terza sonata di questa produzione Sicuramente è difficile fare un discorso su quelli che sono i pianoforti di Schubert lui non ne possedette pressoché nessuno ma sicuramente conosceva molto bene quello che era la qualità del suono la qualità anche della fattura della produzione dei pianoforti a Vienna il pianoforte di questa produzione è una copia Graf costruita da Andrea Restelli e sicuramente ricostruisce e soprattutto dona all'ascoltatore oltre che all'esecutore quelle sensazioni di trasparenza anche di tragicità e anche di quelle che sono le ambiguità che lo spirito schubertiano contiene Grazie a tutti